Aperto un fascicolo per omicidio colposo indagati due medici dalla procura di Teramo per il decesso di Anna Maria Marchetti di 68 anni di Campli l'8 dicembre scorso dopo un calvario durato mesi. I familiari della vittima hanno presentato un esposto per far piena luce sulla morte della paziente con particolare riferimento alle cure ricevute a Villa Dorotea. La procura di Teramo, pubblico ministero Greta Loisi, ha aperto quindi un procedimento penale per omicidio colposo iscritto nel registro degli indagati due medici. Le indagini mirano a verificare eventuali responsabilità da parte dei medici che hanno avuto in cura Anna Maria Marchetti con particolare riferimento a quelli della residenza sanitaria assistenziale Villa Dorotea dell'Aquila dove la signora è stata ricoverata per quattro mesi. Per essere assistita la famiglia si è rivolta attraverso il consulente personale Modestino D'Aquino a studio 3A società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro a tutela dei diritti del cittadino. L'odissea di Anna Maria era iniziata il 23 marzo scorso quando in preda, vomito e forti dolori addominali è stata ricoverata all'ospedale di Sant'Omero. Entrata sulle sue gambe e celebramente attiva la paziente ne è uscita fisicamente debilitata il 27 maggio con la diagnosi di demenza cerebrale degenerativa e parkinsonismo. Dopo una settimana a casa ma sempre con problemi allo stomaco e vomito all'inizio di giugno la figlia ha deciso di accompagnarla all'ospedale di Teramo. Qui è stata ricoverata nel reparto di medicina dove le diagnosticano finalmente la curano un'infezione di helicobacter e di cui trasferita in psichiatria dove essendo caduta in depressione per il suo quadro clinico ha iniziato una cura di psicofarmaci che l'hanno resa inevitabilmente poco reattiva e sempre intontita. Un quadro clinico che è peggiorato secondo i legali dopo il ricovero a Villa Dorotea. L'8 dicembre il decesso ad Atri. Il PM ha acquisito le cartelle cliniche e la documentazione medica e ha disposto l'autopsia sulla Salma per chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità dei medici. Per l'esame che è stato effettuato l'11 dicembre scorso è stato incaricato quale consulente tecnico d'ufficio il dottor Cristian Dovidio dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti che avrà ora 60 giorni di tempo per depositare la perizia.